Il nuovo singolo scritto da Mr. Drew e prodotto dal talentuoso Benny Suede dal titolo Zero è disponibile online su Instagram e su Spotify. Già nelle prime 24 ore dalla pubblicazione aveva superato le 4000 visualizzazioni. Zero è il primo singolo dopo una lunga pausa che è durata diversi mesi. Ero molto combattuto su cosa pubblicare, per come ripartire in generale. È una pausa che è durata davvero tanto. E poi abbiamo con il nostro team di Lamp Records deciso di fare il primo passo con questa canzone che è prodotta da Benny Suede, che ovviamente saluto. Ho girato il video da Settalessio. E' stato il primo passo del percorso che poi ora voglio intraprendere. Nel suo brano Paolo Sasso, in arte Mr. Drew, ha voluto esprimere le sue emozioni con i ritmi trap che arrivano subito a segno, interpretando i sentimenti delle generazioni più giovani messe a dura prova dal particolare momento della pandemia che soffoca i ragazzi provati da un lungo periodo di restrizioni, ma soprattutto di solitudine. Avevo questa idea sostanzialmente di fare un pezzo che iniziasse con il piano e poi avesse una sorta di drop, un pezzo introspettivo, quindi che raccontasse più le mie emozioni, una roba emotiva soprattutto per il periodo che stiamo vivendo in generale. Che fare? Mi davi zero A, vorrei sentirmi uno, in fondo zero A, arriva prima di uno, ora mi scrivo non muori.